Presidente Giacomo Moscatello, prima di Catanzaro Potenza, quinta partita del Catanzaro Femminile. Presidente, non si può che essere orgoglioso di queste ragazze? Sì, assolutamente sì. L'orgoglio deve essere mio, ma soprattutto della città, che deve riconoscere a queste ragazze il prestigio di portare in alto il nome del Catanzaro. Presidente, credo che l'obiettivo promozione ormai non si può nascondere. No, questo è il nostro obiettivo e speriamo di perseguirlo e di portarlo fino in fondo, vincendo il campionato. È il nostro obiettivo, sì. Le insidie di una partita come questa, che non fa classifica, ma come diceva Mr. Sabadini, vale tutto, differenzaretti, cartellini, infortuni? Sì, conta tutto, tranne i tre punti, quindi bisogna stare attenti e comunque prenderla come un buon allenamento, ma cercare di vincere, perché vincere aiuta a vincere. Come chiedevo anche al Mr. Sabadini, la domanda è d'obbligo. Domenica ci sarà Catanzaro-Francavilla alle due e mezza, voi giocate intorno alle due e un quarto. Che messaggio vuole lanciare al pubblico di Catanzaro per venire a vedere le ragazze? Al pubblico di Catanzaro posso solo dire che ho tentato di giocare di sabato per avere il pubblico del Catanzaro qui e cercheremo di farcela per le prossime partite. Per ora in bocca al lupo, sia ai maschietti che alle femminucce del Catanzaro. Domenica scorsa contro il Coscarello, due o trecento persone, orgoglioso anche di questo, Presidente, per quello che sta facendo? Sì, il movimento è in crescita, ci vuole un po' più pubblico, ma sicuramente ce la faremo, sono convinto che ce la facciamo. Benissimo, grazie.